Dunque, tuffiamoci allora nella risoluzione di questo primo semplice simulatore, quindi ricordiamo che dobbiamo impostare una struttura di questo genere, quindi una classe evento, una classe simulatore, un chiamante che può essere magari nel caso semplice direttamente il main, in un caso più complicato dove avremo un'interfaccia grafica eccetera, il simulatore tipicamente viene istanziato all'interno del modello, quindi il modello che crea il simulatore per chi gli interessa avere certi valori in output e questi eventi inseriti ovviamente in una coda. Prendiamoci Eclipse, creiamo un nuovo progetto, per la prima volta chiamiamolo semplice senza interfaccia grafica, chiamiamolo car rental, il testo l'ho chiamato car sharing, chiamiamolo car sharing così c'è parallelismo tra ciò che abbiamo sulle slide e ciò che ci sarà nel codice car sharing, in cui creiamo un package it polito tdp car sharing e dentro questo per abitudine ci faccio un package model in cui vado a lavorare, potrebbe essere un package simulatore o modello come volete, lavoro qua dentro, mentre il package principale ci metterò solamente il programma main. Allora, da dove parto? Ma magari parto da descrivere le due classi principali che sono simulatore e evento, quindi creiamo due classi, classe simulator e una classe evento. la classe evento deve essere inserita in una coda prioritaria abbiamo detto, quindi dovrà implementare l'interfaccia comparable, quindi possiamo anche scriverlo dopo ma possiamo anche creare da Eclipse, implementare l'interfaccia comparable, comparable di cosa? Di evento ovviamente, quindi una classe evento che implementa l'interfaccia comparable che è in grado di confrontare tra di loro eventi. Ricordate che per inserire un oggetto all'interno di una priority queue, questo oggetto non solo deve avere, potrebbe avere scodi, equals eccetera, i soliti metodi normali, ma deve avere un metodo compare to, che permettono alla coda prioritaria di poter ordinare. Compare to è un metodo che ha senso per gli oggetti confrontabili, di cui sia possibile dire chi è il maggiore e chi è il minore, oltre all'equals che ti dice quando due sono uguali, quindi posso anche dire chi viene prima e chi viene dopo. E quindi in qualche modo Eclipse mi predispone già il metodo compare to da implementare. Allora partiamo dall'evento. La classe evento, dicevamo tutte le classi evento devono avere almeno due campi che ci sono sempre. Uno è il tempo, per ora pensiamolo come intero, e questo numero intero per semplicità decidiamo di implementarlo come minuti dalla mezzanotte. E poi il tipo di evento. I tipi di evento, prima abbiamo pensato, sono arriva un cliente per prendere una macchina, oppure ritorna un cliente per restituire la macchina, o almeno questi due. Come lo rappresento? Sarà una variabile tipo, che cos'è? Un int, una stringa? La cosa più logica è creare una enumerazione, un enum in Java, nel quale elenchiamo quali sono i valori leciti per questo tipo. Quest'enum possiamo crearla come classe separata o anche solo come classe interna d'evento, così è più esplicito il fatto che è un'informazione relativa al singolo evento, questi valori non servono un granché al di fuori dell'evento. Quindi io posso definire all'interno di event una enumerazione, event type, elencando quali sono le tipologie di eventi che mi servono. Definisco delle costanti, quindi possiamo chiamare la prima, arriva un nuovo cliente e la seconda è l'auto restituita. Un enum non è altro che un gruppo di costanti, in realtà è come se dicessi nuovo cliente uguale 0, auto restituita uguale 1, definisco delle costanti. Solo che a queste costanti do un tipo, do un nome e quindi Java è in grado poi di verificare che quando usa una variabile di questo tipo, usi solo questi valori leciti. Quindi anziché definire una serie di costanti, nuovo cliente uguale 1, auto restituita uguale 2, eccetera, eccetera, e poi dovevano gestire a mano dicendo che il tipo dell'evento è un int, dico che il tipo dell'evento è un event type e così ci pensa Java a verificare il livello di compilazione che stia usando i tipi giusti. Event type è una sorta di, un enum è una sorta di classe che ha solo delle costanti statiche dentro e non ha dei metodi e viene trattata in modo particolare da Java. Dalle vostre facce probabilmente non l'avete usata molto di frequente. Ok, allora noi abbiamo una variabile di tipo event type che sarà il type. Quindi questo type potrà essere type uguale nuovo cliente, type uguale autoresituita e basta, gli unici valori leciti sono quelli. Su questi due variabili, domanda aggiuntiva, ci serve rappresentare altre informazioni all'interno dell'evento? Cosa potrebbe esserci? L'ora in cui il nuovo cliente arriva, l'ora in cui restituisce l'auto? Potrebbe esserci, ma adesso non ci serve, chi è il cliente e qual è l'auto. Potremmo mettere dentro questo evento un riferimento al cliente e un riferimento all'auto. Per il tipo di simulazione che dobbiamo fare finora non ci serve, quindi per ora non lo mettiamo. Per ora per ragionare sul fatto che gli eventi potrebbero portarsi dietro dell'informazione, informazione di contesto in qualche modo, di che cosa faccio riferimento, qual è l'auto che viene restituita. Se non mi serve non lo rappresento, sarà una. Se invece mi servisse ovviamente dentro l'evento devo dire che cosa viene restituito. In questo caso cosa viene restituito sarà un oggetto di tipo auto che farà riferimento a una lista o una mappa da qualche parte dove ci sono tutte le auto. Quindi qui siamo a posto. Questi due campi sono campi ovviamente per i quali possiamo generare i get a set soliti, source, get a set per time e type e poi generiamo anche un costruttore che prendo ovviamente entrambi i campi. Ok? Quindi è una classe molto semplice, ma no? Poi dobbiamo implementare l'unico metodo serio che è questo, in cui devo dirti come fare a confrontare un evento, l'evento attuale, this con un altro evento che mi viene passato, other. Allora, cosa deve restituire il metodo compareTo? Un numero intero. E come deve essere questo numero intero? Deve essere negativo se this è minore, deve essere considerato minore di other. Nullo, zero, se this può essere considerato uguale ad other, è positivo se this viene dopo other, dove other è il parametro che ricevo. Io per ricordarmelo mentalmente mi ricordo this meno other, questo meno l'altro. Quindi questo meno l'altro mi dà negativo se l'altro è più grosso, mi dà nullo se siamo uguali, mi dà positivo se sono più grosso io. Perché sennò costo più o meno, più uno, meno uno, eccetera. Allora qui quale valore restituiamo è scelta nostra. Può essere più uno, zero, meno uno, oppure un numero positivo può essere qualunque. In questo caso specifico cosa dobbiamo fare? Dobbiamo confrontare qual è il criterio per cui un evento deve venire prima dell'altro oppure dopo il tempo. E quindi dovrò confrontare se this.time è maggiore o minore di other.time. Il modo più veloce di farlo è fare la sottrazione. Se il campo di confronto è questo, visto che è già un intero, io faccio la sottrazione. Se il this.time è maggiore la sottrazione viene positiva, quindi vuol dire che questo evento è nel futuro rispetto all'altro e viceversa. Perché questo è un int. Se più in generale avessi un oggetto, cioè il mio evento contiene tanti campi e io voglio renderlo ordinabile rispetto a un campo, se questo campo rispetto a cui lo voglio ordinare è un oggetto, di solito conviene delegare al metodo compareTo di quell'oggetto. Quindi io qua ritornerei, time è un int, quindi non lo posso fare, ma se non fosse un int, fosse già un integer per dire come classe, qui semplicemente potrei fare return this.time.compareTo.other.time. E quindi delego sul compareTo dell'oggetto su cui voglio confrontare. Qua viene sempre non inventarsi le cose, ma dove l'oggetto che uso è già a sua volta comparable lo sfrutto. Soprattutto quando vedremo la settimana prossima date e ora complesse, non sognatevi mai di andare a confrontare una data e un'ora, confrontando ore, minuti, secondi, eccetera, ma gli oggetti hanno i metodi per farlo. Ok, in questo caso è molto semplice, è una sottrazione tra due interi. Quindi questo dovrebbe darci il 90% di questo evento. Una puntualizzazione, già che ci siamo, compareTo e equals non sono la stessa cosa. Io qua vedo che posso avere degli eventi molto diversi, ma il cui compareTo mi dia zero. Perché? Perché casualmente capitano nello stesso istante di tempo, ma sono cose diverse. Mi arrivano 5 utenti in comitiva nello stesso istante di tempo, io avrò 5 eventi con lo stesso time. E quindi dal punto di vista del criterio dell'ordinamento sono equivalenti. Li posso mettere in ordine che voglio, non ce n'è uno che deve venire prima o dopo. Se io chiedessi equals, che tra l'altro non ho definito, perché non ho un campo univoco in questo oggetto, ma se creo 5 oggetti nessuno di questi sarà equals all'altro. Quindi usare compareTo uguale zero al posto di equals è una cosa malata. Esiste una relazione tra equals e compareTo che dice che se equals è vero, allora compareTo deve essere zero. Basta, non al contrario. Così come se equals è vero, gli hash code devono essere uguali. Questo l'ho imparato tempo fa. Ma non vero viceversa, posso avere hash code uguali ma oggetti diversi perché l'hash code, l'hash fa una collisione perché mi dà due valori di hash uguali di due oggetti che sono diversi. Quindi facciamo attenzione al ruolo giusto di ciascuno di questi metodi di base. Va bene, a questo punto ho l'evento e ho il mio simulatore. Allora il simulatore contiene in pancia, abbiamo visto grosso modo 3, 4, dipende come li contiamo, gruppi di oggetti. da un lato c'è lo stato del mondo, poi avrò la lista degli eventi, poi lo metto davanti i parametri di simulazione e poi avrò anche le variabili di interesse che possiamo vedere separate oppure come facente parte dello stato del modello. Quindi prima di mettere e scrivere i metodi chiediamoci cosa sono queste cose. La più facile è la lista degli eventi, è una cosa prioritaria in cui mettiamo gli eventi, questa è la parte facile, in cui non c'è da pensare. Sarà una priority queue, java.utili.priorityqueue di event, che poi andremo a inizializzare nel costruttore ovviamente. Gli altri invece dobbiamo pensarli. Allora i parametri di simulazione che cosa sono? Sono quei valori costanti o quasi costanti che chi crea la simulazione imposta all'inizio. Quindi uno sicuramente sarà il numero di auto che ho a disposizione, che le slide chiamavano NC, number of cars. Questo numero di auto può essere diverso in simulazioni diverse, io posso fare 3 simulazioni con valore di NC diverso, ma una volta che la simulazione è partita non può più cambiare, quindi da quel punto di vista è costante. Lo metto tutto maiuscolo perché lo penso come costante, è una costante che posso impostare in fase di inizializzazione del simulatore, ma durante la simulazione questo numero non cambia. Poi cos'è che non cambia? Non cambia… ci serve altro? Forse no. Perché in realtà l'altro parametro che era descritto qua nelle slide era T-in, dove era? Ah, è T-travel. Il T-in mi serve solamente per inizializzare la cosa degli eventi, mentre T-travel in realtà serve al simulatore per inventarsi quanto dura il prestito, quindi in qualche modo… però T-travel non è una costante perché è un valore casuale. Cosa ci sarà di costante? Di costante ci saranno i parametri sulla base del quale fa questa generazione casuale. In questo caso i parametri quali sono? 1, 2, 3, cioè il numero casuale va da 1 a 3 e il fattore moltiplicativo è 1 ora. Quindi è un valore base che è di 1 ora e poi lo moltiplico per un numero casuale che può essere 1, 2 o 3. Come lo posso rappresentare questa informazione? Lo posso rappresentare come un intero che è il travel minimum time che sarà 1 ora, possiamo scriverlo, 60. Quello può darsi che non lo dobbiamo cambiare da fuori, ma… e poi un altro intero che è il fattore moltiplicativo, noi abbiamo deciso massimo 3, però 3 è arbitrario, potrebbe diventare 4, 5 ore, vediamo. Quindi travel… chiamiamolo max… num… che inizialmente è 3, quindi diciamo numero massimo di min time per cui auto può essere fuori. Quindi il minimo tempo è minimum time e il massimo tempo è minimum time per maximum number e lì in mezzo sceglie casualmente. Queste sono delle costanti dal punto di vista del simulatore, in qualche modo vanno impostate, le possiamo impostare appunto come delle costanti inizializzate già così oppure direttamente anche modificabili dall'utente del simulatore, non dal simulatore stesso, da fuori in fase iniziale. Stato del modello, invece quali sono le informazioni che cambiano all'interno del modello, che evento dopo evento, tempo dopo tempo cambia. Come minimo ci sarà il numero di auto che sono presenti o che sono affittate che cambierà. Giratelo come volete, o prendiamo le auto ancora presenti in deposito, oppure prendiamo le auto che sono state date in prestito. Pugiamo quelle presenti? Che ovviamente si incrementerà o decrementerà a seconda degli eventi che capitano. Le variabili di interesse, scusate, nello stato del modello potrebbe esserci anche l'elenco dei clienti, l'elenco dei clienti che in questo modo al momento hanno un'auto in affitto, hanno un'auto fuori, l'elenco delle auto che ho, di ciascuna, o la targa, quando è stata data via, quando è stata composta, potrei avere anche altre informazioni qua dentro. Alcune relative alla simulazione, altre relative al contesto in cui la simulazione avviene, non lo scenario. Non a caso abbiamo detto che il simulatore in qualche modo è richiamato dal model, e quindi in qualche modo il model gli può passare tutte le informazioni che ha. In parte costanti, quindi ne interpretiamo come parametri, come contesto della simulazione, in parte anche variabili che possono evolvere. In questo caso non ci servono ancora, ma più avanti qua in questo stato del modello avremo non solamente un po' di numerini, un po' di variabiline, ma anche delle liste, delle code, per tenere traccia, come diciamo, quando fotografiamo il sistema in un certo istante di tempo, che cosa sta facendo, che cosa vedo. E poi le variabili di interesse che è quella sotto insieme dello stato del modello, che alla fine della simulazione mi interessa conoscere. Autopresenti alla fine della simulazione non mi interessa perché sarà uguale al numero di auto iniziali, è una cosa che internamente serve per far lavorare il modello, ma alla fine no. Mentre invece mi serve il numero di clienti passati e il numero di clienti insoddisfatti. Clienti totali, utilizziamolo pure a 0 e clienti insoddisfatti. Sembra anche scritto giusto. Queste sono le variabili principali. quindi come metodi di base cosa abbiamo? Abbiamo un costruttore e dovrò avere dei metodi di get e set, i set solamente su questi, sui parametri di simulazione, cioè dall'esterno posso impostare solo i parametri di simulazione, mentre queste sono variabili in sola lettura, posso solo avere dei get su queste, se vogliamo fare di fine, perché dall'esterno non ha senso modificare o forzare un valore diverso da clienti insoddisfatti rispetto a quello che salta fuori dalla simulazione. Quindi creiamoci un costruttore, al costruttore di che cosa ha bisogno? Allora in questo caso, ovviamente Eclipse mi presenta tutte le variabili locali che ho definito, ma mi chiedo per costruire un nuovo simulatore quali sono i dati obbligatori da fornire che quindi devono far parte del simulatore, secondo me rimane solamente il numero di auto, perché di questi travel minimi, in realtà potrei fornire anche travel mean time, max, etc., e basta, sono questi due qua, ma per questo ho già un valore di default sensato, cioè il simulatore ha già un valore di base, per cui direi nel costruttore ti obbligo a specificare il numero di auto, di cui non esisterebbe, non saprei che valore dare come default, e poi se vuoi puoi anche modificare le altre, perché ci mancherebbe, con un set travel time in, set travel max num, etc. Quindi nel costruttore metterei solamente questo campo e ovviamente dentro il costruttore devo anche andare a inizializzare le altre variabili che mi servono, allora queste qui sono già inizializzate alla dichiarazione, auto presenti devo inizializzarla, solo adesso posso farlo perché conosco il numero di auto totali, non potevo scrivere uguale nc qua sopra, perché nc qua sopra valeva 0 ancora, lo posso fare solamente al costruttore quando al costruttore è stato dato il valore di nc. E poi dovrò crearmi la q, che qui è solo dichiarata ma non è stata creata, uguale new priority q e ci facciamo questa coda vuota. Questo è il costruttore. Poi ci sono i metodi di servizio, principalmente get resetter, anche qua facciamoci generare, allora diamo di fino, auto presenti è una variabile interna, uno stato del mondo, non ci interessa all'esterno, né impostarla né leggerla, clienti soddisfatti sicuramente serve leggerla ma non scriverla, clienti totali serve leggerla e non scriverla, nc possiamo anche, in realtà l'abbiamo già impostata nel costruttore, però potremo anche permettere di modificarla, quindi get set ci stanno bene, la coda è una cosa privata, non ha senso esporlo, travel max num e travel min time li posso impostare a piacere. Quindi le variabili, è sempre difficile definire una regola generale, però le variabili di impostazione della simulazione sono variabili normalissime che posso leggere e scrivere, i risultati della simulazione invece posso solo leggerli, qui non li credo il setter, ciò che è la coda e il modello del mondo all'esterno non deve trasparire, non serve che trasparire all'esterno. Ok, e fin qua fa quasi tutto lui, a parte una cosa bruttissima, tutti i travel max num scritto così sul case dei parametri, ma possiamo sopportarlo. C'è una cosa ancora però dobbiamo modificare, è questa, set nc, quando cambio nc devo aggiornare anche la mia variabile auto presenti, ci ricordiamo che l'auto presenti dice l'auto presenti in tempo reale, questa deve essere inizializzata con il numero di auto effettive. Allora se chi usa il simulatore è un po' ubriaco e quindi inizializza il simulatore con 10 auto e poi dopo fa set nc 20, io devo anche aggiornare le auto presenti all'inizio della simulazione, ovviamente questo set nc va fatto solamente all'inizio della simulazione, prima di partire, ma per coerenza o non te lo lascio modificare, quindi questo metodo qui lo cancello, oppure se nemmeno modifichi aggiorniamo anche le auto presenti, uguale nc. Trovo per coerenza il modello. Quindi chi crea il simulatore lo costruisce, new simulator, numero di auto e poi volendo può fare questi set per impostare i parametri di simulazione. Poi ci sarà il metodo run che fa eseguire la simulazione e ci saranno i metodi get che sono da qualche parte qua sopra, get clienti tot, eccolo qua, get clienti tot e get clienti insoddisfatti che sono quello che interessa conoscere. Manca ancora un pezzo prima del run che è il caricamento della coda iniziale, cioè prima di far partire la simulazione devo dare all'utente del simulatore un modo per precaricarmi degli eventi iniziali, perché altrimenti la coda parte vuota e il simulatore non ha niente da fare. Allora dall'esterno cosa ha senso caricare? Ha senso solamente caricare l'arrivo di nuovi clienti, la restituzione non ha senso che sia qualcuno dall'esterno che me la dice, sono io che me la simulo. Quindi mi basta semplicemente un metodo pubblico ad cliente in cui mi interessa solamente sapere a che ora arriva, in cui dall'esterno prima del run carica una certa serie di clienti, abbiamo detto uno in dieci minuti, ma il fatto che sia uno in dieci minuti lo decide chi crea il contesto, quindi in questo caso il main, per precaricare questa lista. Se no potrei avere un altro metodo che si chiama generati i clienti da solo uno in dieci minuti, dove mettiamo la logica del pattern di arrivo dei clienti, è comunque in una fase di inizializzazione, possiamo mettere dentro la classe simulatore che è in grado di generarsi da solo dei carichi di lavoro ragionevoli, oppure fuori e qualcuno gli inietta dentro un carico di lavoro che ha deciso lui. È abbastanza intercambiabile la cosa. Di base dovrà esserci un metodo per raggiungere un nuovo cliente, che poi questo metodo si è chiamato tante volte dal main, si è chiamato tante volte dal simulator, è indipendente. Cosa fa il cliente? Beh, schedula l'evento di arrivo di nuovo cliente, schedula, cioè lo inserisce nella lista, lo inserisce nella lista degli eventi futuri, che al momento non è ancora la lista degli eventi, sì, la lista degli eventi è ancora freddo, il simulatore è spento, quindi degli eventi che diventeranno gli eventi futuri quando il simulatore partirà. Come? Beh, aggiungendo alla coda un nuovo evento e l'evento ha due parametri, come l'abbiamo definito, il time e il tipo. Allora il time è quello che mi passa chi vuole creare l'evento e il tipo lo devo definire io. Allora il tipo in questo caso è noto, è arrivo un nuovo cliente. Event type punto nuovo cliente. Queste costanti sono parte, sono proprietà delle num, le posso andare a pescare così. Quindi aggiungo un nuovo evento al tempo specificato di tipo arriva un nuovo cliente. L'evento non ha altre informazioni, non ha altri parametri, quindi mi basta così. A questo punto arriviamo al sodo. Mettiamo un commento qua. della simulazione. Ok, a questo punto arriviamo al sodo, al metodo RAM. Il metodo RAM dà per scontato che l'oggetto simulatore sia stato inizializzato correttamente, che ci siano degli elementi nella lista e lui cosa deve fare? Entra in un ciclo in cui estrae ogni volta un nuovo evento e lo elabora. Quindi avremo, ricordiamoci, diamo un'occhiata alla lista ai metodi della priority queue. La classe priority queue, io posso, ho questi due metodi strani, pic e pole. Non c'è il get, come nelle altre collection. Pic dà un'occhiata alla testa della coda, quindi mi dice qual è l'evento che è in testa della coda, ma lo lascia lì. Pic vuol dire sbirciare. Pole invece prende l'oggetto che è in testa della coda e lo cancella dalla coda. Qui lo toglie effettivamente, lo sgancia dalla coda e mi restituisce l'oggetto che è in testa della coda. Poi come sempre c'è anche, non è qua ereditato, l'isempti. Dov'è? L'isempti come tutte le collection. Quindi il codice si può scrivere in modi diversi, ma poi in realtà non confondiamo pole con remove, perché pole estrae il primo della lista, remove invece estrae l'oggetto che gli dico io, che potrebbe anche essere più avanti. Non mi serve per andare a cancellare un oggetto futuro, però a questo punto ovviamente gli devo dare l'oggetto e quindi devo avere da qualche altra parte il modo di trovare il riferimento all'oggetto stesso. Ok, allora noi tornando al nostro codice, se la coda not is empty, se c'è ancora qualcosa dentro la coda, estrailo. Evento E uguale Q punto pole. Quindi se io facessi girare questo ciclo, lui cosa fa? Suuota la coda, estraendo ogni volta il primo elemento. E questo while finisce quando la coda è vuota. adesso, una volta che ho l'evento lo devo elaborare. Io so già, perché la coda è una coda prioritaria, perché il comparator l'ho definito su time, che questi eventi mi verranno forniti in ordine di tempo crescente, quindi del tempo non mi devo preoccupare, è il lavoro della coda prioritaria quello. E quindi elaboro l'evento. Potrei chiamare un altro metodo process event oppure posso scrivere il codice qua e lo stesso, qui per ora è molto semplice quindi possiamo anche scrivere tutto qua dentro. Allora, come faccio a elaborare l'evento? Beh, la slide diceva, beh, dipende dallo stato del mondo, dal tipo di evento, da una serie di cose, che cosa devi fare. Allora, di sicuro dipende dal tipo di evento. Quindi quasi sempre l'elaborazione dell'evento è un grosso switch sul type. A seconda del tipo di evento fai cose diverse. Lo switch è una forma breve di una serie di if e che si sposa molto bene nello switch con le numerazioni, con le nume. Perché poi il compilatore è in grado di capire se nello switch ho coperto tutti i casi oppure no. Quindi ho un evento e la prima cosa che mi chiedo è di che tipo è questo evento? Possono essersi due casi, case, nuovo cliente, due punti, punti, oppure case, control tab, auto restituita, due punti, break. La sintassi da switch fa cagare perché non è allineata al resto della sintassi Java e quindi ogni ramo inizia con case costante, due punti e finisce con break. Ricordate di mettere il break anche se non servono le parenti di graffe, quindi non ci sono parenti di graffe per iniziare e finire il singolo caso, se non mettete break cosa succede? Che il codice continua giù. Quindi se dimentico questo break eseguo questo codice sotto il nuovo cliente e poi eseguo anche il codice sotto l'auto restituita. C'è un fall through da un caso all'altro. Questo purtroppo è una colpa che ci portiamo indietro dai tempi della prima versione del C. Allora, a questo punto ci chiediamo cosa devo fare quando arrivo a un cliente nuovo? Siamo qua dentro. Quando arrivo a un cliente nuovo dipende dallo stato del mondo, dipende se ho ancora un'auto oppure no. Quindi se le auto presenti sono zero, non ho auto, altrimenti affitta un'auto. Nel caso in cui io non abbia più auto non devo fare nulla, nel senso che devo tener conto del fatto che ho un cliente insoddisfatto. e basta, sto poveretto lo mando via, se ne andrà via, ma io come simulatore non devo più tenerne tracce in nessun modo. Il numero di auto era già zero. Se invece il numero di auto non era zero, allora effettivamente ho affittato un'auto. Allora avrò un cliente in più e un'auto in meno. E poi dovrò ricordarmi che quest'auto che adesso io ho consegnato mi dovrà rientrare prima o poi. E quindi dovrò schedulare un evento di rientro di quest'auto. Dimmi. Quindi dici che devo incrementarlo anche qua? Dipende come lo definiamo, va bene. Se i clienti toccano i clienti serviti o i clienti arrivati, questo dipende se incrementiamo qui oppure no. Come l'avevo scritto là sopra? Non l'avevo scritto. Quindi scriviamolo. a questo punto. Quando ho affitto un'auto la cosa più importante è la cosa più importante che devo fare? Sì, ovviamente tengo conto che l'auto non ce l'ho più, ma devo ricordarmi che quest'auto rientrerà. Dopo quanto tempo? Allora lui la terrà fuori per una certa durata del noleggio, che è un valore casuale. Una volta che io abbia calcolato, ragioniamo un secondo per scrivere una formuletta che abbia senso, una volta che ho determinato per quanto tempo sta fuori quell'auto, posso aggiungere un nuovo evento al tempo, adesso più la durata del noleggio, quindi adesso cos'è? E.getTime più durata. Cioè questo evento avverrà nel futuro durata minuti dopo il tempo presente. Il tempo presente è il tempo dell'evento che sto elaborando e il tipo di evento sarà auto restituita. Quindi sto dicendo, quando restituisco un'auto tengo conto che l'auto è uscita e mi segno quando dovrò simulare il rientro di quell'auto. E questa durata dice le regole che è data dal valore minimo di durata, che è un'ora, moltiplicato per un numero casuale tra 1 e 3, il max num. Quindi abbiamo di spunto il minimo tempo di noleggio, moltiplicato per un numero casuale tra 1 e quell'altra costante. Quindi uguale, dunque, qui possiamo usare mat.random, mat.random è un po' una rogna perché restituisce un numero tra 0 e 1. Quindi per avere un numero tra 1 e 3 devo moltiplicarlo per il max num, in questo caso un numero tra 0 e 3. Li sommo 1 e così avrò un numero tra 1 compreso e 4 escluso, quindi tra i 99, e questa cosa qua che è un numero floating point lo devo troncare all'intero. Vedete qua, la javadoc dice che restituisce un numero che è maggiore o uguale di 0 e minore di 1, che è un double. Quindi con questo giro qua, io converto un numero casuale reale tra 0 compreso e 1 escluso a un numero intero tra 1 e travel max num, se non ho fatto errori. Allora questo, moltiplicato per 60 minuti che è la durata, mi dà, che è la durata minima, mi dà la durata effettiva. Quindi qui abbiamo gestito cosa succede quando arriva un nuovo cliente e facciamo cose diverse a seconda che ci siano auto presenti o non ci siano più auto presenti, che non ci siano più auto presenti oppure ci sia almeno un'auto che si può affittare. Qui ho messo un evento nel futuro, io non so se questo evento sarà il prossimo evento che mi tocca o in mezzo ci sono altri 50 clienti che arrivano oppure altre auto che arrivano, non mi interessa. O meglio, so che la priority queue questo aspetto lo gestisce tranquillamente. Quindi io vedo solamente un evento per volta. Io quando elaboro l'evento vivo nel presente. Adesso cosa succede? E poi pianifico qualcosa eventualmente per il futuro, che so che dovrò simulare in futuro. Ultimo passo, auto restituita. Quindi altro caso, se il simulatore mi sveglia con un evento che è un evento di restituzione di auto, cosa devo fare? Dipende da qualcosa ciò che devo fare? Non direi di no, devo fare una cosa sola, segnarmi che quest'auto è rientrata. Devo schedulare qualcosa per il futuro? No, una volta che è rientrata, quest'auto, questo prestito, questo cliente ha fatto il suo ciclo di vita e non mi interessa altro. E quindi questo evento, mentre il nuovo cliente è un evento che viene elaborato ma ne genera uno nuovo e quindi auto alimenta la coda degli eventi, l'evento auto restituita invece quando estraggo quell'evento non ne crea un altro nuovo. Quindi alla fine questa coda degli eventi via via si assottiglierà. Questo è il cuore. Adesso se vogliamo possiamo aggiungere tre print, così quando il simulatore gira ci stampa in console cosa sta facendo, e riusciamo a capirlo un po' meglio. Possiamo dire qua che al tempo per 100D cosa ho? Ho un cliente insoddisfatto. il tempo è ovviamente e punto get time punto e virgola poi invece quando ho affitto un'auto dico che che l'auto è stata prestata rientra alle per 100D rimanenti cioè auto prestata al tempo tra l'evitare l'auto è stata prestata rientra alle 18 rimanenti 8 auto mi scrivo queste tre informazioni quindi auto prestata rientra alle e il valore che abbiamo passato questo e il terzo valore è quante auto sono rimanenti e dis punto auto presenti e quando viene l'auto viene restituita possiamo oppla cosa ho fatto? CTRL Z stai buono e quando l'auto viene restituita invece possiamo stampare che l'auto è restituita e scriviamo quante ce ne sono rimanenti quindi il durato non mi serve più sarà un po' prolissa questa cosa ma almeno abbiamo la traccia degli eventi che abbiamo fatto e della variazione dello stato del modello a seguito di ciascun degli eventi adesso se questo funziona non ci rimane che chiamarlo che usarlo allora facciamoci una classe main void main string args quadre e questo main che dovrà fare creare il simulatore caricargli gli eventi iniziali fare il run e stampare i risultati quindi simulator preso da ok modulo sim uguale new simulator quante ne mettiamo? 20 auto iniziali poi non tocchiamo gli altri parametri per il momento inizializziamo la coda mettendo cosa diceva il testo un cliente ogni 10 minuti giusto? tempo di arrivo 10 minuti diciamo dalle 8 del mattina alle 5 di sera allora le 8 del mattina sono 8 per 60 in termini di minutaggio fino a quando siamo minore o uguale alle 17 per 60 e ogni volta faccio passare 10 minuti allora definisci i nuovi clienti uno ogni 10 minuti dalle 8 alle 16 7 per ciascuno di questi time dico simulatore aggiungi un cliente a questo time questo qua non la carico io da fuori la coda iniziale time è minuti allora quanti minuti sono? qual è il minutaggio delle 8 del mattino? beh 8 per 60 e ogni volta incremento time di 10 passo al minutaggio dei 10 minuti successivi si è in punto run a questo punto posso vedere cosa è successo posso vedere i clienti totali arrivati che sono sim.get clienti totali e invece i clienti insoddisfatti sono sim.get sono sim.get clienti insoddisfatti secondo voi con questi parametri cosa mi dice? avrò dei clienti insoddisfatti o no? a spanne probabilmente no perché io ho 20 auto ho un cliente ogni 10 minuti quindi mi arrivano 6 clienti all'ora giusto? l'auto sta via al massimo 6 ore quindi non credo di riuscire a affittare più di 18 auto nel caso peggiore se tutti stanno via 3 ore nella prima ora vanno via 6 auto nella seconda ora altre 6 nella terza ora altre 6 e rimango ancora con due auto in deposito ma nel frattempo cominciano a rientrarmi le prime poi tenendo presente che non sempre stanno via 3 ore ma ne stanno stanno via 3 ore solamente in un terzo dei casi in un terzo e in un terzo stanno solo via 2 ore 1 ora le auto mi rientrano prima quindi così a spanne mi aspetto anzi non uno spanne mi aspetto di sicuro di non avere dei clienti soddisfatti così però poi ci giochiamo con questi valori se faccio un run qua mi dice infatti che sono arrivati 55 clienti che perché non è multiplo di 6 perché ho preso le 17 comprese quindi ho 54 clienti 6 per ore tra le 8 e le 17 più 1 e le 17 00 nessuno insoddisfatto vabbè allora dimezziamo il parco macchine se io dimezzassi il parco macchine da 10 da 20 a 10 ne avrei sempre 55 clienti arrivati perché così li ho impostati dall'esterno di cui però 14 insoddisfatti 14 in questo caso se lo rieseguo 14 13 11 15 14 16 e ovviamente oscilla perché c'è un elemento di stocasticità dovuto al fatto che la durata dei prestiti durata del viaggio è una variabile casuale e quindi mentre prima era garantito perché abbiamo fatto i conti che 20 auto fossero sufficienti qua sappiamo non dico per certo ma sappiamo molto probabilmente che ci saranno dei clienti insoddisfatti e il numero di clienti insoddisfatti oscilla l'abbiamo visto oscillare tra l'11 e il 15 magari sono un po' che mettiamone un po' di più 13 auto quello ci da 4 3 4 5 1 3 se io dovessi dimensionare il parco macchine proverai così simuliamone 14 ne ho ancora qualcuno ogni tanto a volte ci sono degli zeri ci sono delle giornate in cui mi va bene probabilmente su 15 sono già più tranquillo però capiamo che basta eseguire questo simulatore 100 volte di fila vedere quante volte sono a zero i clienti insoddisfatti mi è sufficiente ho uno strumento decisionale ovviamente ho comprato 15 auto i clienti sono soddisfatti e quindi domani avrò più clienti e quindi anziché ogni 10 minuti arriveranno ogni 8 minuti allora cambio il 10 le faccio diventare 8 e le mie 15 auto sono sufficienti ancora beh ovviamente avrò qualche clienti insoddisfatto in più quante auto in più devo comprare volendo uno eseguendo tante volte questo simulatore potrebbe anche farsi una sorta di grafico che dice in funzione del numero di clienti che mi aspetto poi questa cosa va resa più complicata perché ovviamente probabilmente tra le 8 le 10 del mattino arrivano molti più clienti che non tra mezzogiorno e le 2 allora questo mi migliora o mi peggiora la cosa le auto vanno tutte via al mattino tra mezzogiorno e le 2 non arriva quasi nessuno che è il periodo in cui non ho più auto dentro ma ho pochi clienti quindi magari meglio non lo so oppure il fatto che le auto vanno tutte insieme mi crea dei problemi andrebbe simulato così a intuito non saprei come rispondere e qui però abbiamo uno strumento che modificando poche righe dell'initializzazione oppure abbiamo dei clienti che stanno via per più tempo e quindi il max num non è più 3 ma è 5 possono stare via fino a 5 ore cosa cambia? cambia che ovviamente i clienti soddisfatti aumentano adesso qua lo stiamo facendo a mano cambiando i valori nel main immaginatevi un'interfaccia grafica in cui posso cambiare questi vari parametri e ogni volta vedere il risultato della simulazione ok? quindi questo è se vogliamo l'architettura generale che cercheremo di seguire sempre questa cosa è molto semplice perché vabbè perché gli eventi sono solo due e perché lo stato del mondo è banale se volete giocarci io qui vi ho scritto alcuni spunti alcuni spunti per fare nuove versioni di questo esercizio ad esempio ricordarsi chi è il cliente quindi dice l'auto è stata data al cliente tizio tizio lo potete chiamare 1,2,3,4 con un nome inventato e poi dici quando ritorna un'auto sai di chi è in ogni momento puoi sapere chi sono i clienti che hanno le auto fuori e cose di questo genere oppure però non cambia un granché però ci abitua ad avere una lista di clienti che va o che si affianca alla lista degli eventi gli eventi sono gli stessi però poi ogni evento ha un'informazione in più che si porta dietro anche il cliente quindi il cliente arriva chi il cliente restituisce chi quindi c'è un campo in più nell'oggetto evento che fa riferimento al cliente modellare diversi tipi di auto allora qui diventa già più interessante auto classe A classe B classe C quindi la la panda la tipo oppure l'auto sportiva sono di varie classi allora a questo punto il cliente ne vuole una se tu non hai l'auto più piccolina il cliente vuole tirchio come me chiede sempre l'auto più piccola di classe A e non ce l'hai più ma magari hai un'auto di classe B allora strategia strategia di vendita preferisco perderci dei soldi e darti comunque l'auto di classe B facendola pagare come classe A oppure ti mando via senza darti l'auto non so se siete voi gestionali però posso decidere ho uno strumento che mi permette di valutare chiaro che se lui mi chiede l'auto migliore che ho sì potrei declassarlo facendogli uno sconto e quindi ho un mondo che è un pochino più complesso però posso giocarmi sulla complessità del mondo per riuscire a recuperare dei clienti che avrei perso conviene farlo o non conviene farlo non lo so oppure ancora più complesso immaginare che questo non ci sia solamente un deposito d'auto ma ce ne siano molte diverse come diciamo come nelle affittà auto normali e quindi quando io prendo un'auto decido quando lo restituirò ma anche dove lo restituirò te la riporto tra 4 ore ma in un altro deposito allora a questo punto non è più detto che le auto che escano mi rientrino tutte perché magari escono da un deposito e rientrano in uno diverso in questo caso c'è anche il rischio che il deposito di arrivo sia troppo pieno quando voi prendete le biciclette del bike sharing a volte non riesci a parcheggiarla perché è già tutto pieno poi c'è uno dei temi di esami vecchi se andate a sbirciare che lavora su dei dati veri del bike sharing di San Francisco e abbiamo fatto una simulazione potremmo anche farla insieme su che cosa succede cambiando il numero di stalli nelle bici quante volte non riesci a prenderla quante volte non riesci a restituirla quindi però in questo caso devi gestire non solamente auto disponibili ma per ogni deposito auto totale e auto disponibili per ogni deposito e l'evento è arrivo in quel deposito la prendo e la consegno in quell'altro deposito quindi ho informazioni in più dicevamo sul cliente sull'auto e sui depositi quindi si complica la cosa ecco tanto per darvi un'idea di una cosa invece molto più complicata vi rubo 5 minuti ancora per se non ci sono domande su questo su cui appunto come dicevo potete provare a giocare io lo condivido subito come sempre il progetto provare cominciamo a pensare a un esercizio più complesso che sarà il nostro accruccio di domani allora questo esercizio vogliamo simulare un pronto soccorso emergency come funziona il pronto soccorso tu arrivi e diciamo immediatamente c'è qualcuno che ti vede e ti fa l'operazione detta triage cioè identifica qual è l'urgenza e la gravità del tuo bisogno del tuo intervento istantaneo e rapido a seguito del triage tu hai un codice codice di severità codice bianco codice giallo codice rosso eccetera poi dopo il triage ci sono un certo numero di studi in cui ci sono i medici che trattano le persone il numero di studi può essere variabile è una variabile del modello di simulazione uno due tre quattro studi e questi studi lavorano in parallelo ogni dottore ogni volta che si libera dal paziente precedente chiama il prossimo paziente fa quello che deve fare e lo lascia andare quando chiamano il prossimo paziente ovviamente viene chiamato il paziente che ha priorità maggiore e a parità di priorità la persona che aspetta da più tempo questa è la coda normalmente che fa per cui se tu arrivi lì in codice bianco sei sicuro di aspettare 4 o 5 ore devi sperare che tutti gli altri stiano bene altrimenti non passerai mai va bene allora i codici i severity codice che ti possono assegnare sono bianco cioè non è urgente puoi aspettare indefinitamente giallo rosso e poi c'è anche il nero che è una possibile outcome del processo nero sei morto quindi da quel punto di vista il medico non ha più bisogno di farti nulla dopodiché ci sono alcune cose che capitano da sole se io un codice bianco dopo un certo tempo se non mi chiamo non me ne vado perché tanto vabbè non ero grave vedo che oggi non è giornata andiamo riproviamo un'altra volta oppure vado all'altra parte codice giallo è serio ma non è urgente però dopo un certo time out se non mi chiamano da giallo diventa rosso perché mi sto aggravando rosso è serio urgente quindi mi chiameranno per primo ma se per caso non mi chiamassero dopo un certo tempo passa black chiaramente lo semplifichiamo e ci sordiamo anche ma grosso modo il modello funziona così ovviamente ci sono delle tempistiche queste tempistiche provano a riassumere mentre questi sono dei time out per cui se non succede una certa cosa ne deve succedere un'altra dopo un certo time out io ho un tempo che mi dice quanto dura il triage cioè io arrivo alle ore 11.23 supponendo che mi guardino subito dopo quanto tempo mi viene assegnato un codice e quindi posso entrare effettivamente in lista d'attesa e questa è la durata del triage ad esempio 5 minuti poi posso anche ipotizzare che a seconda della gravità delle persone il tempo che ci mette il medico a trattarli quando sono già nello studio sia diverso cioè se non hai niente in 5 minuti probabilmente ti visita ti scrive qualcosa e sei fuori se sei in codice rosso ad esempio ci mette 30 minuti per trattarti quindi il codice rosso è quello che passa davanti agli altri ma che quando è dentro ci mette più tempo perché deve fare più cose immagino quindi sono questi sono dei parametri che specificano meglio il modello io qui ho provato a dare una visione di insieme cioè tu arrivi fai il triage entri in coda e poi prima o poi entri in uno degli studi 1, 2, 3 quanti sono e prima o poi esci cioè dopo che sei entrato in uno studio dopo un certo tempo esci sei dimesso questo dal punto di vista del percorso generale allora da questo capiamo che è abbastanza più complesso di quello di prima giustamente partiamo dalle cose più facili perché devo gestire questa coda che non è la coda degli eventi ma è la coda dei pazienti poi ci sono degli eventi che fanno riferimento ai pazienti cioè il paziente entra il paziente entra in uno studio il paziente esce ma in qualche modo i pazienti li devo avere da qualche parte separatamente perché di ogni paziente devo avere il codice che è assegnato devo avere da quanto tempo sta aspettando e cose di questo genere quindi devo avere delle informazioni sui pazienti che sono aggiuntive rispetto alla coda degli eventi che di fatto fa passare il tempo non la coda degli eventi e poi ho degli eventi di meccanismi automatici anche che automatici non sono nel senso che avrò degli eventi fittizi che sono quelli che mi dicono se sei giallo diventi poi rosso allora io ho provato ma non sono sicuro al 100% a definire quelli che sono che possono essere gli stati del paziente che non sono i tipi di evento ancora io posso avere un paziente nuovo new scusate se va capo in modo strano poi a seguito della azione di triage e questo è l'evento le palle sono il paziente cosa sta facendo il paziente fa parte dello stato il presente adesso il paziente è nuovo adesso il paziente è in lista d'attesa con codice bianco adesso il paziente è in lista d'attesa con codice giallo cos'è che fa passare un paziente nuovo e lo fa diventare in lista d'attesa l'evento triage ha finito il triage quindi quando arriva il paziente nuovo alle ore 10.30 io so che alle 10.35 il triage avrà deciso l'avrà messo in lista d'attesa quindi i pazienti che sono in questi tre stati sono in lista d'attesa col codice bianco giallo o rosso poi io so che se uno in codice giallo dopo un certo tempo può passare in codice rosso e quindi l'evento che mi fa passare che mi fa cambiare lo stato del mondo dicendo adesso non sei più codice giallo sei codice rosso è il passaggio del tempo un time out l'evento invece che mi fa passare dallo stato waiting allo stato treating cioè mi stanno trattando mi stanno curando è il fatto che uno degli studi medici sia liberato e io sono il prossimo in coda coda secondo le priorità dei codici non la coda degli eventi quindi abbiamo due code in qualche modo una della lista dei pazienti che si mettono in fila ordinatamente fila concettuale e uno invece degli eventi che vanno avanti che gestiscono il tempo tutto ciò che succede nel tempo e poi dopo il treating ho il termino di gestire un paziente il che ovviamente libererà lo studio per un altro paziente che potrà entrare oppure il paziente nel caso specifico del codice bianco può decidere di non di abbandonare la coda e in ogni caso il paziente ad un certo punto arriva in uno stato che è chiamato auto cioè è fuori dal sistema oppure in uno stato black che è anche fuori dal sistema ma in un modo diverso allora io dico ragionando su questo ho provato a creare questo schema dove dicevo gli stati le palle sono lo stato del sistema le frecce o meglio il motivo per cui ho trovato una freccia sono gli eventi che devo gestire non sono sicuro al 100% che sia giusto perché bisogna prima implementarlo vedere se non abbiamo dimenticato qualcosa quindi questo è già più complesso avendo oggi fatto uno semplice applichiamo lo stesso schema mentale ma sappiamo che dovremo lavorare di più soprattutto per gestire lo stato del sistema ma abbiamo tempo fino a domani per preoccuparcene buona giornata